E' un giovedì 19 strano quello che stanno per vivere le forze politiche lucchesi. Se da un lato pare che sarà risolutivo l'incontro previsto a Firenze tra il candidato designato Tambellini, il presidente Baccelli e le segreterie regionali e nazionali del PD, dall'altro appare ancora piuttosto nebuloso il futuro nel PDL, nonostante in queste ore si stiano svolgendo gli stati generali del pretito. Ma andiamo con ordine. Nell'ultima settimana il PD ha svolto molti sondaggi per capire se realmente ci sia voglia di primaria, ma l'esito sembrerebbe da ragione ad Alessandro Tambellini, un Tambellini che si dice sereno e convinto che il suo staff potrà lavorare sodo per la prossima tornata elettorale e non per prevalere nelle elezioni primarie che anche gli stessi intervistati ritengono terdive. Pare a questo punto difficile che le segreterie florentine possano chiedere a Tambellini di confrontarsi alle primarie. L'incontro servirebbe di fatto per cercare di concedere a Baccelli una via d'uscita onorevole, evitando di ritrovarsi con due candidati di centro-sinistra alle comunali. Nel PDL è venuta meno la candidatura del professor Castellacci, con nodo da sciogliere sull'ipotetico favilla bis, pare del tutto scontato che gli stati generali di stasera non siano altro che una tappa di avvicinamento al nome del prossimo candidato. I nomi caldi, come si dice in gergo, sono quelli di Marco Porciani e l'ex sindaco Pietro Fazzi, ma non appaiono per motivi diversi particolarmente appetibili. Da più parti si pensa che nel PDL si comincerà a fare sul serio solo dopo aver capito la strategia del centro-sinistra, anche perché se Baccelli dovesse non fare un passo indietro sarebbero molti quelli pronti a sostenerlo, da governare Luca allo stesso Udc. Capito la parte per Luca Leone, che da tesserato del PDL, ma separato in casa, pare si presenterà agli stati generali, ponderando successivamente se sia il caso o no di restituire la tessera del pretito, e poi c'è sempre lui, Mauro Favilla, che alla fine di tutte le consultazioni è stato tutt'oggi il candidato più accreditato del pretito.